Ciao a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale, o meglio bentornati per coloro che sono già iscritti. Ecco, questo vuole essere un video particolare, insomma già vedete per quella che è la presentazione dedicata a Emanuele Sabatino. E vi spiego perché, perché io come probabilmente tanti di voi che state guardando adesso questo video eravate magari iscritti al suo canale, o eravate comunque appassionati di motori. E per chi frequenta il web e YouTube ed è appassionato appunto di motori, non poteva non conoscere Emanuele se non ovviamente personalmente, quantomeno dal punto di vista appunto video. Ora io vi chiedo scusa per la voce eccetera perché ho appena guardato alcuni altri video di omaggi che sono stati fatti a Emanuele e appunto un po' guardando questi video un po' ripensando a quella che è stata la sua vicenda sono anch'io commosso ecco. Ora perché? Perché fare questo video che oltretutto segue a distanza di alcuni mesi da quello che era stata l'ultima mia pubblicazione. Vi spiego il perché e non vi biasimo nel caso in cui non vogliate seguire tutto questo video perché magari diventerà un po' lungo, magari potrà essere un po' noioso. Come vedete è una cosa che sto facendo di getto col mio smartphone direttamente inquadrando semplicemente il tablet. Tra l'altro come potete vedere intorno ci sono ancora i residui di un pranzo, di una festa di Natale che abbiamo fatto ieri con alcuni amici. Quindi ecco, questo vuole essere proprio un video di getto. E vi spiego, io credo che una delle cose più importanti che persone come Emanuele ci lasciano in eredità quando se ne vanno, quando per loro è giunto il momento di andarsene piuttosto che quando decidono, come forse pare che sia capitato a lui decidono che per loro è arrivato il momento di cambiare dimensione ecco, di non vivere più quello che si stava vivendo. Ecco, secondo me una delle cose più belle, una delle cose più importanti che ci lasciano in dote è quello che loro hanno, i messaggi che loro hanno voluto trasmettere e quella che era la loro conoscenza, quelle che erano le loro esperienze che sono state condivise e che quindi hanno potuto regalare ad altre persone momenti magari di gioia, momenti magari di entusiasmo piuttosto che momenti, diciamo, di apprendimento come poteva essere per chi seguiva il canale di Emanuele. Ora, perché dico regalare? Dico regalare perché ovviamente questi contenuti che venivano messi da Emanuele come del resto quelli che postano gratuitamente insomma i vari youtuber piuttosto che i vari professionisti è tutto materiale appunto gratuito e accessibile a chiunque. Poi naturalmente che dietro questo discorso ci fosse un aspetto lavorativo, un aspetto di guadagno questo nel caso di chi se lo merita come Emanuele perché era professionale perché era in gamba, perché era bravo non solo nel suo lavoro di meccanico o meglio nel suo lavoro nell'ambito della meccanica in generale perché poi sappiamo che lui insomma ha spaziato in tanti campi diversi di quello che è l'ambito automobilistico è giusto che queste persone abbiano anche un ritorno economico per quello che fanno al di là del loro lavoro ma anche per le loro pubblicazioni e c'è da dire che una persona come Emanuele che aveva una gran bella dialettica che mostrava sempre un'enorme passione per quello che faceva e che si vedeva ci teneva anche a spiegare probabilmente le cose più banali per gente che magari è già del mestiere cose banali magari anche per un'utenza media quindi è anche giusto che abbiano il loro ritorno economico per cui detto questo torno al motivo iniziale di quello che voleva essere il mio video questo voleva essere un video omaggio ma un video di ringraziamento a Emanuele perché quello che a me ha lasciato oltre naturalmente ai suoi video e alla sua testimonianza è la seguente cosa l'importanza di condividere con altre persone quello che magari si è in grado di fare quello che si è bravi a fare o anche solo quello che si fa perché tutto può essere utile tutto può essere diciamo buono per qualcun altro e se lo facciamo e lo teniamo solo per noi alla fine non abbiamo tutti questi meriti vi chiedo scusa per la voce però è proprio una questione di commozione ed è per questo che a me Emanuele sta spingendo con il suo esempio con la sua attività con la sua intraprendenza con la sua positività con quella che era la sua energia positiva che rilasciava nei suoi video con quella che era la sua passione mi spinge a ad andare avanti a riprendere quelli che magari erano dei video delle attività che io ho iniziato a fare diciamo quasi per gioco per scommessa perché vi spiego il mio canale è nato come probabilmente tanti altri esperienze simili nel web da dei momenti di grosso tempo libero dovuti principalmente ai lockdown del covid e del coronavirus che ha sospeso un po' quelle che erano le nostre attività quelle che erano le nostre abitudini quotidiane e ci hanno anche consentito di magari di esplorare nuovi mondi io quindi in passato avevo già prodotto dei video avevo già prodotto del materiale però poi avevo abbandonato il tutto durante il lockdown avevo ripreso a fare questi questi video avevo ripreso a occuparmi un po' di questo mondo di youtube questo mondo di condivisione social grazie proprio al tempo che mi si era liberato durante il covid ora il discorso è che poi tornando ognuno di noi alle nostre attività quotidiane ovviamente diventa più impegnativo diventa un po' più difficile portare avanti anche altre cose perché ovviamente il discorso dei video di youtube non è la mia principale attività anzi per adesso solo una un'attività collaterale però ripensando all'esperienza di Manuele Sabattino di Ema Motorsport credo che sia giusto andare avanti perché ho visto dell'apprezzamento per i contenuti che ho prodotto ho visto delle persone che mi hanno richiesto altri video che mi hanno fatto domande che mi hanno chiesto di pubblicare anche altri contenuti e quindi credo che sia giusto provare ad andare avanti e a proporre nuovamente altri 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 video altri contenuti questo lo dico perché ovviamente quando uno magari ha tante giornate libere come era capitato a me durante il covid può dedicarsi a delle attività che portano via parecchio tempo perché vi dico produrre un video di youtube soprattutto se non lo si fa a livello professionale quindi non si ha un background di collaboratori magari che possono aiutare con le riprese con i montaggi e con le attività stesse è una cosa molto impegnativa cioè per fare un video di qualità per fare un video dove da un lato cerchi di raccontare determinate esperienze in una maniera più chiara possibile e allo stesso tempo cerchi di lasciare qualcosa di positivo agli altri vi garantisco che è parecchio lungo è parecchio difficile da fare soprattutto all'inizio ecco non bisogna tanto credere secondo me bisogna diffidare di coloro che pubblicano dei video e li mettono sul web in maniera molto semplice molto come posso dire molto semplicistica no dietro dietro c'è del lavoro c'è dell'impegno c'è comunque una passione ora io ho pubblicato alcuni video inerenti il mondo dell'automobile però come dice il mio stesso il nome del mio canale in realtà io volevo semplicemente condividere quelle che erano le mie esperienze tra virgolette fai da te in tanti ambiti diversi perché l'idea del mio canale era proprio quella di dire beh ho intenzione di fare questo lavoro ho intenzione di occuparmi di questo aspetto e cosa faccio lo condivido lo condivido nel bene e nel male cercando di rendere utile e fruibile quella che è una magari in alcuni casi una mia conoscenza in altri casi una mia esperienza in altri casi un mio cercare qualcosa qualcosa di nuovo qualcosa di valido da proporre e per questo voglio continuare a occuparmi di queste cose anche perché proprio recentemente ho ricevuto da alcuni miei iscritti anche da da persone che mi hanno contattato e che hanno visto dei miei video ho ricevuto delle richieste ho ricevuto delle comunicazioni e comunque ho trovato persone che mi hanno chiesto ma perché non ci fai un video su questo argomento qua perché non continui non ampli questo discorso inerente non so la tematica dell'auto piuttosto che la tematica della manutenzione della stufa pellet piuttosto che altre tematiche del fai da te in casa nel giardino con i vari impianti eccetera eccetera e mi riaggancio anche a quella che è stata una cosa che mi aveva detto un mio conoscente un po' di tempo fa e che è stata la seguente tu sei mi aveva detto che tu sei bravo a parlare sei bravo anche a spiegare le cose perché non usi questo aspetto questa tua tra virgolette bravura io poi non ritengo di essere così bravo a parlare a spiegare però questa persona di un certo livello ecco a livello dirigenziale e anche altre persone mi avevano segnalato questa cosa per cui già da lì era partita un po' il motore di questo discorso e l'esperienza di Emanuele devo dire che ha rafforzato questo tipo di pensiero per cui io voglio ripartire di qua voglio ripartire da un omaggio a questa persona Emanuele Sabatino prematuramente scomparsa una persona che io seguivo era iscritto al suo canale dove purtroppo non ho potuto per ragioni di tempo vedere tutti i video che aveva pubblicati ma ne ho visti alcuni e ne ho apprezzati tantissimo e voglio ripartire di qua ringraziando Emanuele anche per questo spunto e anche per questa idea che spero abbia lasciato non solo a me ma anche ad altre persone che è quella della condivisione e del mettere a disposizione di tutti qualcosa che almeno sia interessante e magari utile e voglio ricordarti così Emanuele anche se non ti conoscevo personalmente ma ho potuto apprezzare sia su YouTube sia in televisione alcuni tuoi programmi quella che era la tua bravura quella che era la tua esperienza quella che era la tua energia quella che era la tua allegria come vediamo in questo in questo sorriso voglio ricordarti così con quelle che erano le tue ultime probabilmente attività il regalo della lanciatema restaurata al tuo papà e direi soprattutto anche il il giro sul kart che avevi fatto con con Tommy e più in generale quella che era quella che ancora la tua testimonianza e la tua attività grazie Emanuele per quello che ci hai dato a livello motoristico per quella che è stata la tua condivisione per quelli che sono stati i tuoi video i tuoi programmi per quelli che sono stati i tuoi insegnamenti per chi come me ne sa davvero poco rispetto a te di certi ambiti grazie per tutte queste cose e grazie soprattutto per il tuo esempio purtroppo te ne sei andato troppo presto e ci hai lasciato tante cose ma io in particolare ti ringrazio per questa per questo esempio per questa idea di proseguire quella che è una proposta quella che è un'attività che spero possa piacere ed essere utile questa è la è la cosa più bella più grande che Emanuele e persone come lui mi hanno lasciato e che forse possono lasciare a tutti noi riparto da questo video omaggio a te che dedico a te a tutti i tuoi cari dando un grosso ringraziamento e a tutti a tutti gli appassionati ciao Emanuele arrivederci perché insomma per me per noi non è non è questo un addio è un arrivederci ed è ed è uno stimolo forte è uno stimolo in più per andare avanti con le nostre con le nostre vite con le nostre attività ciao ciao e grazie grazie